Ormai ci siamo, siamo alla vigilia di questo Parma-Torino. Cos'è? Un altro esame? L'abbiamo detto in questa stagione almeno dieci volte. Un esame, un esame. Non siete stanchi a fare esame? No, è un'altra parola importante che arriva in un momento abbastanza delicato per noi sotto l'aspetto dei risultati. Ci siamo preparati molto bene in settimana perché sappiamo che è un appuntamento a non sbagliare e speriamo di riportare a casa i tre punti perché anche a livello mentale la vittoria comincia un po' a mancare. Quindi devo cercare di fare di tutto per ottenerla migliorando quelle lacune che magari ultimamente si sono viste. Senti, adesso si dice tre punti in otto partite, in altre occasioni si sarebbe parlato di crisi, di discussione degli allenatori. Tu cosa ne pensi? Com'è con Donaldoni? No, no, io penso che quando la squadra si esprime come aveva fatto anche domenica a Genova si può parlare di tutto di meno che di crisi. È normale che questa squadra dei limiti ce l'ha. Questa squadra non è Real Madrid e quindi può accusare anche momenti di flessione, però c'è interesse e voglia da parte di tutti di venirne fuori sin da domenica. Il mister come allenatore prepara le partite sempre al meglio insieme al suo staff e ci prepara al meglio. Noi dobbiamo cercare di aumentare un pizzico di attenzione in più e di cattiveria che in un campionato equilibrato come questo fa la differenza. Senti, se è vero che a pancia piena, come si diceva fino a qualche partita fa, non si gioca benissimo, è altrettanto vero che con l'assillo di dover vincere a tutti i costi non è che magari si gioca altrettanto bene. No, no, infatti io preferisco avere la pancia piena e essere a 32 punti e non essere nei panni del Palermo o del Siena perché ci siamo passati anche noi negli anni passati e so quanto è difficile sotto l'aspetto mentale affrontare certe partite. La squadra non ha la pancia piena, la squadra assolutamente sta solo mancando risultati per disattenzioni, per episodi che magari nei giorni d'andata ci giravano bene e adesso gira tutto male. Però c'è, ripeto, la consapevolezza a parte nostra dove dobbiamo migliorare e c'è la voglia soprattutto di migliorare in quegli aspetti che magari nelle ultime partite sono mancati. Senti, anche questo Torino diciamo che fa della combattività, la sua arma migliore, è un Torino che viene qua per giocarsi le sue carte. Sì, assolutamente, anche perché è una squadra che pratica un calcio molto propositivo e quindi sotto questo aspetto potremmo essere aiutati per sfruttare un po' quelle che sono le nostre caratteristiche soprattutto in attacco. Una squadra che sta facendo bene, che bene o male ha gli stessi punti nostri e quindi verrà a Parma giocarsela, ma noi sicuramente faremo di tutto per portare a casa la vittoria. La difensore ti fa più paura alla forza, chiamiamola così, di Bianchi o la velocità magari di qualche altro attacco? Ma sai, ognuno in Serie A e ognuno con le sue caratteristiche sono sempre giocatori temibili. Io e Bianchi tra l'altro ci ho giocato insieme a Reggio Calabria, fece 19 gol, so che giocatore è e la forza che ha. Quindi c'è da stare attenti, ma non solo a lui, insomma il Toro sta facendo bene, c'è una partita da prendere con le molle, però se il Parma torna ad essere il Parma di qualche settimana fa sicuramente tornerà la vittoria. Da, tra virgolette, in senso buono, senatore vuol dire qualcosa di tifosi, che conosce bene la città? Ma no, io penso che in questo momento dobbiamo essere noi a trascinare loro, perché magari le ultime prestazioni, anche in casa, non sono state soddisfacenti per il tifoso, quindi sono venuti fuori i mugugni, i primi fischi allo stesso tempo, però dobbiamo essere noi a farli trasformare in applausi, dando subito il giusto approccio, facendo vedere subito dall'inizio che questo Parma voglia, questo Parma combatte e vuole vincere la partita. Grazie.